ragazzi veramente non ci volevo credere cioè quando è uscita la notizia che non avrebbe giocato immobile ho detto vai toccare a retegui e invece cosa mi presenta al buon vecchio lucianone nazionale raspadori il grandissimo bomber raspadori che vorrei ricordare che l'anno scorso nella sua infinita carriera ha totalizzato ben due gol in tutta la stagione quindi direi un bomber di razza ha fatto tipo una cosa come una decina di partite ha iniziato da dal primo minuto e per la bellezza come ho già detto di due gol bene quest'anno ha fatto un paio di partite niente di più zero gol chiaramente e questo è diventato il bomber della nazionale oggi ha dato il meglio di sé direi perché bomber raspadori con i suoi ah no non ha segnato è vero con i suoi zero gol ha fatto capire qual è la sua attuale carriera un bomber che fa ben due gol in tutto il campionato direi che è un attaccante su cui la nostra nazionale può puntare ora io non dico che debba per forza giocare retegui perché ci mancherebbe l'altro non per niente uno che in quattro partite tra campionato e coppa quest'anno ha già fatto tre gol perché deve giocare cioè secondo me è meglio mettere un raspadori che ha fatto due gol in un anno e quest'anno ne ha fatti ben zero quindi secondo me ci sta anche tutto io penso che l'italiano pretenda dopo due fallimenti mondiali pretenda di avere i migliori giocatori in campo quindi non dico che debba giocare retegui ma non deve giocare neanche raspadori ora va bene non gioca immobile si reputa ahimè il miglior attaccante che abbiamo in italia e quindi serve un sostituto perché quando è indisponibile un sostituto ci vuole ebbene non mi sarei mai aspettato raspadori ecco noi non vogliamo mettere tegui perché magari ha giocato nel campionato argentino quindi magari ha fatto schifo lì quest'anno ha fatto solo tre gol in quattro partite però mi aspetto almeno uno scamacca perché credo che abbia già fatto di più di raspadori in un anno intero quindi io non capisco tutta questa queste scelte da dove possano arrivare io penso che sia una sola una cosa tipicamente politica perché non ci sono altre spiegazioni almeno credo io pretendo da italiano di avere sempre i migliori in campo possibilmente abbiamo fallito due mondiali e vorrei evitare di fallire il terzo mondiale supponendo che forse agli europei ci arriviamo e quindi vorrei sempre il meglio vorrei poter vedere giocare la mia nazionale quella italiana e magari fare tre o quattro gol ma vincere abbastanza agevolmente oggi con l'ucraina ci è andata anche bene perché poi tutto sommato ho fatto i due gol abbiamo fatto un po pochino quindi ripeto il buon Matteo può stare tranquillo tanto per lui la nazionale sicuramente non sarà il suo futuro perché comunque abbiamo capito benissimo che il buon Lucianone nazionale non lo vuole mettere l'ha messo dieci minuti alla fine ha fatto più in dieci minuti che Raspadori in tutta la in tutta la sua partita però capisco che lui magari non possa giocare ma io a Matteo gli dico di star tranquillo meglio che ci faccia i 12 13 14 gol nel Genoa che non giocare dieci minuti in nazionale quindi meglio così va bene così non c'è problema però ripeto e concludo io mi aspetto che la mia nazionale italiana presenti sempre i giocatori migliori che ci siano non quelli che sono l'amico dell'allenatore piuttosto che il giocatore con cui ha sempre fatto panchina ha fatto ben due gol l'anno scorso ecco io mi aspetto una nazionale dei giocatori più forti in quel momento se poi purtroppo il nostro movimento non ci permette avere dei fenomeni ok però non vorrei neanche vedere una nazionale di questo di questo calibro è così per inciso è quindi direi che Matteo torna tranquillo a Genova viene a divertirti qua facci un po i tuoi 15 gol lasciamo perdere questa nazionale speriamo di arrivare negli europei perché comunque io sto con l'Italia sempre comunque mi aspetto ripeto una qualità un pelo migliore che non vedere locatelli o raspadori ecco tutto lì ragazzi alla prossima ciao